Il direttore della Reggia Mauro Felicori per la prima volta nel circolo tennis di Caserta ci sono gli internazionali e la 29esima edizione. Cosa ha trovato? Intanto mi piace molto come si sa conoscere Caserti in ogni suo angolo, quindi sono stato invitato dagli amici della Reggia che hanno qui una loro base e sono venuto ben lieto anche perché non conoscevo prima di venire a Caserta questa realtà di questo torneo e in generale mi piace molto di tutto quello che avviene a Caserta anche al di fuori della Reggia individuare le cose che sono suscettibili di diventare sempre più importanti. Siccome questo ho colto che è un torneo già importante con una sua continuità e storia mi chiedo se non si possa o come si possa fare qualcosa per farlo diventare ancora più importante perché ovviamente il nostro obiettivo è di mettere Caserta in una posizione sempre più importante in Italia perché più importante Caserta più guadagna la Reggia e anche viceversa il mio lavoro è quello di far sì che la crescita di importanza della Reggia favorisca Caserta. Ecco, quindi diciamo che c'è quest'idea che Reggia e Caserta debbano crescere insieme e quindi mi piace cercare di raccontare anche attraverso il mio diario di Facebook mi piace di raccontare la mia scoperta di Caserta con le cose interessanti che ci sono questa è una di queste. E più importante è il torneo Città di Caserta nel tennis, più importante è Caserta visto che il nome di Caserta gira in tutto il mondo grazie a questo torneo. Eh certo, questo è esattamente questo. E sarebbe molto bello se con l'impegno anche, tanto grazie agli sponsor che ci sono già ma anche con l'impegno di altri sponsor potesse addirittura crescere ancora di più diventare ancora più importante. Certamente, anche questo si può fare il bene della Reggia anche partendo dal tennis. In realtà una mano potrebbe darla anche la politica in generale alle istituzioni del nostro territorio e ci si lamenta sempre un po' perché qui, come ha detto lei, gli unici a dare una mano sono gli sponsor privati. Ma no, diciamo sulla politica del territorio non amo tanto ingerire, in generale però penso che i cittadini non debbano lamentarsi ma debbano proporre positivamente, tra l'altro siccome è tempo di elezioni è proprio il momento in cui i cittadini possono far sapere da loro, fare proposte, programmi, ma in generale lamentarsi non serve a molto, serve agire costruttivamente, rimboccarsi le mani che io sono sempre a favore di un atteggiamento positivo verso qualunque cosa, inclusa la politica che ovviamente ha 6.000 problemi ma non ci sarà nessuno che ce li risolve per noi, è un lavoro che dobbiamo fare noi quello di migliorare la politica. Gli amici della Reggia di Caserta, l'associazione l'ha nominata lei, è nata poco prima del suo arriva nel 2014, li conosce, insomma danno un grosso contributo? Danno un grosso contributo e dovranno darlo ancora più grosso soprattutto se i casertani li aiuteranno, perché è importante che tutti i tanti casertani che mi dicono io amo la Reggia, io amo Caserta e io rispondo bene allora entrate nell'associazione Amici della Reggia, date il vostro contributo in modo che quest'amore non sia solo platonico ma anche un po' carnale diciamo. Sulla Locandina c'è la Reggia di Caserta, l'avrà vista, l'anno prossimo c'è la trentesima edizione degli internazionali, le farbbe piacere se ci fosse ancora? Bene, assolutamente, anzi l'anno prossimo voglio venire a premiare se mi fanno venire.